buongiorno a tutti qui è sempre Arduino Schenato, yearforex.com price action come sapete e in questo video sempre molto operativo voglio andarvi a raccontare un qualcosa di interessante riguardante le inside fake out e come andare a fare trading su un inside fake out reversal e come questo tipo di dinamica può essere facilmente leggibile ovviamente sempre da contestualizzare perché se tradate come tutta la price action così perché c'è il setup e basta sapete che non va bene nella price action fatta come si deve non si tradano i segnali ma si trada la struttura che poi dà vita a un segnale magari ci fa da trigger quindi mi raccomando sempre approfondire ogni tipo di setup noi nel platino, nella scuola platino cerchiamo di dare e trasmettere questo tipo di messaggio da tanti anni devo dire che negli ultimi due anni abbiamo ancora di più secondo noi anche vedendo i risultati aumentato la nostra capacità di diffondere questo tipo di approccio al trading e in questo video voglio parlarti di uno dei setup proprio che è credo fondamentale conoscere se si vuole fare trading con la price action ora diamo per scontato che si va sui time frame grandi in questo caso grafico daily ovviamente e sul grafico daily di dollaro yen qualche tempo fa c'è stata una situazione particolarmente interessante dove si poteva sfruttare appunto questo inside pick out reversal che era arrivato proprio sul livello molto importante abbiamo avuto un movimento di swing come potete vedere eccolo qua quindi 1,2,3,4,5 movimento che arriva fino a questo massimo area 111,50,112 zona che su settimanale era una zona assolutamente sentita diciamo che se andiamo su settimanale eccola qua questa era la zona importante e che appunto nel nostro grafico daily ritorno un attimo eccoci qua benissimo ci ha mostrato un movimento quindi di swing che arrivava con aumento della volatilità prima e ancora di più successivamente boom proprio sul livello importante 111,50 praticamente cosa succede? succede che su questo livello si crea proprio una chiara una chiara input dei prezzi un chiaro diciamo fake out in questo caso non è proprio esattamente un inside fake out è un fake out proprio di un livello e un movimento ribassista poi molto molto chiaro e molto facile che cosa succede? succede che il principio è quello dell'insight fake out ovvero c'è un movimento di tendenza per esempio una barra di questo tipo si crea un inside e poi il mercato la brecca e ritorna giù spesso crea delle pin e quindi il concetto è quello dell'insight fake out in questo caso specifico quello che si è creato non è proprio un inside fake out è un fake out proprio di un livello che ha la stessa tipo di dinamica quindi qui abbiamo una barra molto forte eccolo qui in questo caso abbiamo svariate barre che non riescono a rompere il massimo di questa abbiamo questa giornata abbiamo questa barra che è un sabato e domenica cioè una domenica lunedì quindi che crea ancora nuovamente la ricerca di un rialzo poi ancora eccolo qui il rialzo e quindi poi con queste tre barre insieme si è creato il presupposto per cercare uno short ripetiamo allora movimento di ampia volatilità siamo arrivati su un livello importante sul livello importante abbiamo avuto una giornata due giornate tre giornate quattro giornate con svariati spike che hanno portato ogni volta i prezzi a cercare il rialzo e non sono riusciti in realtà ad andare oltre chiudendo sopra e quindi che cosa si forma? si forma un fake out del livello quindi una dinamica che si viene a ritrovare nel mercato spesso un fake out del livello con la non riuscita a rimanere al di sopra di questo dopo ampia volatilità e un movimento repentino verso il livello tra l'altro anche in modo molto rapido proprio il movimento da 102,60 a 112 è stato di qualche giornata un paio di settimane al massimo e poi da qui non ce la fa quindi quando iniziamo a vedere debolezza su questo livello con il fake out dei livelli guardate qua tutti questi fake out nel momento in cui il mercato fa la prima rottura del minimo delle barre fake out e in questo caso diventa questa perché non rompe mai precedentemente sotto la barra fake out questa vedete non è mai rotta al ribasso questa neppure questa rompe al ribasso e da lì boom parte la volatilità con due giornate estremamente volatili estremamente ribassiste con il movimento diciamo che si va a fermare che poi anche se poi continuerà si va a fermare diciamo nell'ottica proprio di brevissimo sull'area 107,5 che era l'area principale di livello precedente quindi vedete che in questo caso con un movimento di break out già sotto questi minimi con uno stop subito sopra i massimi ma perché dico subito sopra i massimi perché già qui c'è già stato il fake out quindi non ha senso andare a ricercare uno stop chissà dove lo stop va subito posizionato qui sopra e guardate un movimento che paga già quasi tre volte il nostro rischio quindi assolutamente interessante questo tipo di dinamica è una dinamica molto simile all'inside fake out in questo caso è un fake out classico un fake out di livello ma la dinamica che si crea è un inside fake out cioè un movimento di fake di un livello imparate a guardare e contestualizzare questo tipo di dinamiche magari ne parleremo e faremo vedere altri esempi in prossimi video però questo sicuramente era assolutamente da trattare e quindi ho voluto mostrarvelo detto questo vi chiedo sempre di lasciare un mi piace sul video di iscrivervi al canale e di commentare io a questo punto vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vedremo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti